Alla piazza dell'Aiuntamento, centro culturale, da questa prospettiva è la prima volta che stiamo girando un video, naturalmente non siamo né una bicicletta né un motorino, siamo tutto elettrico e stiamo girando il giochino, eccola, bene, Manuel devi andare, arriva, tu retto alla schierta è sempre il paesino, tu puoi camminare qua, non devi camminare sulla strada, sennò che gusto c'è, andiamo piano piano, andiamo a vedere il teatro è sempre il parco di oggi, il parco di oggi, sì, bellissimo, bellissimo, i speciali e la nostra carosella in compagnia di Manuel, il nostro amico vi facciamo vedere il teatro bene